good morning it's anzi dire più buon poveriggio perché qui mezzogiorno 10 mister master maestro o semplicemente o semplicemente david lichich it's a february 4 2022 and if you can believe it it's a friday once again it's a friday once again it enables a cloudy morning very still right now 57 Fahrenheit around 14 celsius this means that non è quella giornata veramente 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 fredda in questi giorni in questo periodo almeno per me non avverto sempre freddo come ripeto se ce non l'ho avverto moltissimo perché come sempre vi invito a vedere il mio video sul freddo l'ho fatto qualche settimana fa per capire quali sono le due pratiche che utilizzo per cercare non di vincerlo è impossibile ma quanto meno di combattere friday once again and as every friday and as every friday i shaved my bed with this fantastic fantastic blue black and grey electric only ten o e tv very cheap very creative e la severi friday in realtà tra si sabato notte diciamo in realtà vedrò i watch mai ehm mia trasmissione preferito il programma suo preferito sul cinema condotto da girge mazzullo che si chiama diciamo cinematografo lo sto ripetendo da qualche settimana se riesco a inserisco gli spezzuni di alcune sue frasi cut che pronuncio durante il programma che poi realtà lui conduce anche altri programmi sul teatro e su una intervista a vari ospiti che si chiama sotto luce e applausi teatro e arte l'altro programma e però non vido vido quasi sempre solo quello sul cinema e anche lì dice varie frasi cut ehm ad ogni modo quanto riguarda il video sui pensieri il rito me lo faccio sempre separato da qui anyway as you just see from the window anzi ma io di no però ci vedete un frammento la altra finestra anche qui non si vede beh si abbiamo avuto il sole il sole ma non questi bellissimi blu sky in sun perché come avete visto tutti comunque c'è un sole tra le nuvole quindi è nuvoloso prettamente è più oltre più oltre quindi tra l'altro è sceso anche di un grado meno temperatura stamattina hanno fatto il qualche rato erano 14 celsius adesso 13 celsius e 55 celsius quindi leggermente è più freddo però pure che è nuvoloso spero che comunque si mantenga questo non diciamo sole leggero guardi comunque sempre meglio rispetto alla pioggia se viene a piovere diciamo quindi dico la frase qua al caldo ovviamente le cose possono sempre cambiare momento all'altro fatta solo che subito e appunto spero si mantenga così se dice questo è da la 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 diciamo chiari come da la cursor ovviamente non dico delle cose con Old people Eventualmente Video sui pensieri Sempre separato da questo Un saluto A un nuovo iscritto Che non so chi possa essere Ma comunque l'ho notato Ti ringrazio In ogni caso Ma comunque È un interi speciale Questo canale Ti invito comunque A vedere Canali tastiera Perché C'è canali tastiera principale Soprattutto perché Quello è il mio canale Principale ancora Al momento Questo Ha comunque Rulo secondare ancora Per me Dati i numeri Ma insomma Lo reputo comunque Importante So again E' un grande day E' un'ottima gente A questa nuova Entra E tutti E' un'ottima